Il percorso che porterà la nuova pista dell'aeroporto Vespucci di Firenze sarà condiviso con i territori e le istituzioni. Appena incassato il via libera di Enac alla nuova proposta per la pista dello scalo fiorentino, 2200 metri in posizione obliqua, con cono di volo sopra l'impianto di case Passerini che non ospiterà il termovalorizzatore, il governatore Eugenio Gianni ha ribadito il cambio di approccio. E' giusto che quando poi andiamo a fare gli atti per dare il via ai lavori, prima ci sia stato un dibattito pubblico e tutti coloro che vogliono porre dei rilievi lo possono fare e quindi la delibera sarà poi completa anche di queste deduzioni e contradduzioni che naturalmente noi faremo. Una volta riscontrata l'approvazione dei territori, Toscana Aeroporti presenterà il nuovo masterplan. Gianni non vuol sentir parlare di tempi. Ho detto che le cose preferisco che ci voglia qualche mese in più ma devono essere fatte bene e quindi proprio per questo non ho mai messo tempi. Il percorso partecipato annunciato dal governatore Eugenio Gianni coinvolgerà anche il comune di Sesto Fiorentino. Il sindaco Lorenzo Falchi nel frattempo però ha confermato la sua contrarietà al nuovo progetto. Non abbiamo documenti in mano, rimaniamo contrari all'ampliamento dello scalo, studieremo le carte della pista obliqua, ha fatto sapere il comune di Sesto. Immediata la replica del governatore. Noi siamo abituati a concepire negli ultimi anni il dibattito sull'aeroporto come una partita fra Guelfi e Ghibellini. No, qui è un'opera che è necessaria per adeguare quello che i tempi ci richiedono, ovvero il trasporto aereo e conseguentemente gli interventi devono essere sul merito. E sul merito devo dire che negli incontri che abbiamo fatto il sindaco Falchi si è dimostrata persona seria e costruttiva. Anche il comune di Sesto Fiorentino ovviamente sarà coinvolto dal confronto. Gianni, lungo la strada verso la nuova pista, non vuole lasciare indietro nessuno. La strada verso la nuova pista, non vuole lasciare indietro nessuno. Non vuole lasciare indietro nessuno. Non vuole lasciare indietro nessuno.